buongiorno ragazzi io sono la dottoressa martina gangale e sono un docente a contratto del corso di laurea in igiene dentale dell'università degli studi dell'insubria questo corso di laurea è organizzato secondo due principali aree tematiche di insegnamento l'area biomedica e l'area psicopedagogica e compito dell'igienista dentale è quello di aumentare il benessere psicofisico del paziente gli sbocchi professionali sono diversi e molteplici il principale nell'area clinica è quella dell'assistenza verso il paziente sia nell'ambito privato che pubblico quindi perché studiare l'insubria all'insubria è possibile svolgere tante ore di tirocinio pratico utili ad acquisire conoscenze e competenze che permettono allo studente di iniziare a lavorare immediatamente dopo la proclamazione scegli insubria scegli oggi il tuo domani ciao sono maurizio studente al terzo anno del corso di laurea in igiene dentale ho scelto il corso di laurea in igiene dentale perché fin da bambino ho sempre avuto il desiderio di lavorare in uno studio dentistico e come continuazione del mio percorso scolastico in quanto mi sono diplomato come odonto tecnico ho scelto l'università degli studi dell'insubria per la qualità dei servizi offerti per il tasso di occupazione per la nostra professione e anche per il tirocinio in quanto abbiamo molte ore a nostra disposizione per la pratica professionale ciao a tutti sono rebecca studentessa al terzo anno del corso di laurea in igiene dentale presso l'università degli studi dell'insubria ho scelto questa professione perché ho sempre dato grande importanza al sorriso che è un po' considerato come il nostro biglietto da visita grazie a questa professione abbiamo la possibilità di insegnare ai nostri pazienti che il sorriso è un elemento da mantenere conservare e soprattutto mostrare essendo un corso a numero chiuso abbiamo la possibilità di creare un rapporto molto personale con i nostri docenti sia per quanto concerne le materie teoriche ma anche soprattutto per la parte pratica inoltre la possibilità di lavorare come libero professionista mi permetterà in futuro di organizzare al meglio la mia quotidianità quindi scegli oggi il tuo domani grazie a tutti grazie a tutti